Torna per il quindicesimo anno l'Appennino Festival, la rassegna di musica popolare folk e cultura che mira a far conoscere angoli nascosti della nostra provincia a suon di poesia e note. A partire dai luoghi più belli dal punto di vista naturalistico e storico e con il supporto delle tradizioni originali, quelle musicali, del territorio promuoviamo l'Appennino, i borghi, la musica, le valli, le grandi fiere di prodotti per un pubblico non solo locale. Ci apriamo alla regione Emilia-Romagna, ci apriamo al turismo lombardo con 16 eventi che coprono le tematiche dell'arte, della musica e del turismo sostenibile. Una ventina agli appuntamenti dal 17 luglio all'11 dicembre. Si parte il 17 luglio in una location molto particolare a Castelletto di Vernasca. Castelletto di Vernasca ospita una splendida architettura, una pieve romanica incompleta perché non ha il tetto, non ha una parete e quindi siamo con il cielo stellato e con uno dei grandi musicisti della tradizione italiana, Fabio Rinaudo e le sue straordinarie zampogne e corramuse.